Un aspetto che è un aspetto fondamentale nella costruzione di società è la fiducia. Senza fiducia è impossibile costruire società e quello che accade in questa condizione di capitalismo delle megamacchine è che le megamacchine stanno producendo erosione di fiducia. Tutta quella dinamica di investimento sociale, investimento affettivo e di fiducia nei confronti della possibilità di creare comunità, discorsi eccetera, che passa attraverso l'illusione delle piattaforme per esempio, anche delle piattaforme sociali o della iperindividualizzazione che i telefoni cellulari hanno reso, come dicevi tu, forse uno dei più importanti fatti sociali nella contemporaneità e tutto questo produce continuamente una sottrazione di fiducia. Basta vedere quello che è successo con le elezioni negli Stati Uniti per esempio, oppure con tutta la circolazione di dati, l'intromissione nella gestione di dati politici, personali eccetera. Tutto questo fa chiaramente molto male alla democrazia, ma forse anche al capitalismo fa male. Fa male alla democrazia e fa male all'idea di società che avevamo in mente, però fa male secondo me anche al capitalismo nella misura in cui la riduzione, la mancanza di fiducia sociale produce conflitto e il conflitto non fa bene al capitalismo. Cioè le relazioni sociali e le forme di potere, ma anche di governo proprio, che presuppongono la fiducia dei cittadini, anche una fiducia indiretta, anche non attiva, siano messe in discussione dalla comunicazione delle piattaforme. In che direzione vado tutto questo chiaramente? Su questo sono d'accordo però con una piccola variazione. Noi stiamo riscontrando una carenza di fiducia nei confronti del prossimo, mentre non abbiamo problemi a riporla con tutta questa fiducia nelle piattaforme. C'è Facebook, Google, qualsiasi piattaforma che utilizziamo quotidianamente, sanno di noi più di quanto ne sappia un genitore o la fidanzata. Cioè conoscono le preferenze sessuali, conoscono i gusti violentamente religiosi, conoscono i gusti commerciali e qua che c'è il serpente che si morde la coda del capitalismo che si autosostiene. Poi nell'interesse di chi è un'altra domanda che, insomma, la risposta è facile da geolocalizzare quantomeno. I poteri forti adesso sono concentrati in quel tratto di California della Silicon Valley. Stanno cercando di appropriarsi, nel vero senso della parola, della mente, delle persone e del mondo. Basti pensare a Libra, alla criptovaluta di Facebook, potrebbe potenzialmente capovolgere un po' gli equilibri economici che il capitalismo 1.0 aveva forse un attimo consolidato. Secondo me che, non so, più che la fiducia nei confronti delle piattaforme è che è impossibile controllarli. Cioè non è tanto che ci fidiamo e che non siamo in grado di… Di autocontrollarci. Di autocontrollarci ma anche di controllare il modo in cui i nostri dati vengono gestiti. Questo sicuramente non siamo in grado di farlo. Cioè come fai a intervenire su questo? Devi intervenire politicamente. Non è semplice, sicuramente. Stavo ragionando su questo pezzo di discussione e mi richeggia però una parola che ha detto Giorgio, che è rivoluzione, no? Giorgio c'era un po' lanciata qua sul tavolo. Sì, è lì, è lì che gira. Ed è la parola rivoluzione, che è una parola che per chi un po' di storia l'ha studiata, ne abbiamo studiate tante, di rivoluzioni, non so quante ne abbiamo vissute in realtà. E se penso alla rivoluzione penso anche a una questione di temperatura. La rivoluzione è fredda, nel senso che è scomoda. Mentre la vita che stiamo facendo oggi, o comunque la vita delle piattaforme, del benessere, è una vita calda, cioè è una vita comoda. Quindi una rivoluzione oggi presuppone una scomodità. Entrare nella rivoluzione vuol dire veramente abbandonare tanta comodità, anche quella degli strumenti che ci supportano nel facilitare i contatti e la comunicazione, seppur poi terzializzata. C'è un afflato rivoluzionario che mette in discussione queste cose o no? Io l'ho fatto rivoluzionario, l'ho visto, assolutamente, ma questo è un altro discorso. Io non sono tanto d'accordo sul fatto, sì, la nostra è una vita comoda, ma non può durare. Quindi di fatto chi si oppone non è Lenin, è la biosfera, quindi la biosfera è più potente di Lenin forse. Io credo che la rivoluzione è scomoda, però è, a mio parere, inevitabile in qualche maniera, non dico la nostra, sicuramente, non si può dire sicuramente, ma probabilmente non la mia generazione. La vostra è già più a rischio, a mio parere. Ma direi che le alternative che appaiono oggi è o rivoluzione, ma rivoluzione intendo dire, quindi costruire un altro sistema mondo, che non è una cosa evidente, io non so dare le indicazioni. Primo, però o è quello o è fascismo, o è Trump, o è la guerra, perché poi in realtà il capitalismo è contento o non è contento, quindi quello che dicevi tu. Non lo so se il capitalismo è contento o non è contento, perché il capitalismo si è sempre accomodato benissimo della guerra. Il neoliberalismo, la prima esperienza del neoliberalismo sul terreno, è stato inventato da Hayek e gli altri negli anni 30, 40, eccetera, però dov'è che erano fatta la prima esperienza del neoliberalismo? Nel Cile di Pinochet, è lì che sono arrivati i Chicago Boys, è lì che è cominciato il neoliberalismo, quindi l'imprenditore di se stesso, tutto quell'individualismo di cui stiamo parlando oggi. Loro hanno vissuto solo dentro questo contesto dell'individualismo, dell'imprenditore di se stesso, quindi tutti in competizione con tutti e questa è la realtà che abbiamo di fronte, insomma. Quindi non sono qua a fare il Lenin della situazione, il Lenin ecologico, dico solo che le cose stanno andando in questo senso, stiamo andando verso questa situazione e il capitalismo è il problema centrale e quello che, secondo me Marx si sbagliava su una cosa, ma che è fondamentale. Lui ha puntato tutto sulla storia del rapporto lavoro-capitale, ma ha completamente dimenticato che oggi sia molto più evidente, che il capitalismo ha bisogno di appropriarsi anche senza il lavoro capitale. Credo che, per esempio, il movimento femminista, sin dagli anni 70, ma anche oggi, mette in evidenza che c'è un settore di comando diretto che non passa attraverso il capitalismo, di produzione di lavoro gratuito, che è quello delle donne, che non passa per forza attraverso un padrone, come pensava Marx, perché il padrone è l'uomo della famiglia in questo caso. Questa è, penso, che è la cosa che non è stata presa in conto e quindi che andrebbe presa in conto oggi per andare al di là della situazione. Secondo, quando dico la biosfera, ho detto la biosfera, però ho detto probabilmente una stupidaggine, probabilmente può succedere molto prima della biosfera, perché in realtà noi siamo sull'orlo del baratro, noi stiamo vivendo un mondo a interessi negativi, cosa che non è mai successa nella storia umana. Quindi, in realtà, sempre per dire dove stiamo andando, in realtà le medicine che sono state usate per cercare di bloccare la crisi finanziaria, la crisi del capitalismo del 2008, sono state utilizzate. Il vaccino non funziona più e basta niente, perché basta niente, perché basta che ci sia un altro crash finanziario, non è che dobbiamo aspettare che il mare arriva a Torino, non è quello il fatto, è la finanza il problema, è il collasso ecologico e il mondo che tiene sugli interessi negativi, quindi non ci sono più armi se c'è un altro crash finanziario, queste due cose, dopodiché le nostre comodità sono finite. Questa è la situazione, per questo dico che secondo me vale la pena di darsi una mossa e che secondo me i gilets jaunes non hanno tutti i torti quando si danno una mossa.